Musica De Marche da oggi in zona gialla, studenti delle superiori in classe al 70%, riaprono i ristoranti anche a cena ma solo all'aperto, tre comuni invece saranno in zona rossa, Monte Labate, Valle Foglie e Cerreto Desi. Vendo un rene per salvare il mio locale, torna a protestare il barista di Ancona che solo poco tempo fa si era incatenato per protestare contro le misure restrittive del governo. Il bonus casa 110% potrà essere richiesto anche per l'abbattimento e la ricostruzione di un immobile, lo ha stabilito la regione con un'apposita delibera. A Fano partiranno in settimana i lavori di riqualificazione dei parcheggi in Viale Dante Alighieri, l'assessore Tonelli a Sicura, resteranno gratuiti. Tra poco in diretta dopo il telegiornale su Fano TV, primo cittadino con il sindaco di Pesero, Matteo Ricci. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Benvenuti dalla redazione di Fano TV a questo nuovo appuntamento con l'informazione. Dunque la regione ha confermato tre comuni in zona rossa o zona arancione rafforzata. Si tratta di Monte Labate e Valle Foglia in provincia di Pesero Rubino e Cerretodesi in provincia di Ancona. Escono dalla micro zona rossa Tavuglia e Acqualagna ma rimangono Monte Labate, Valle Foglia e Cerretodesi. Lo hanno stabilito la regione e il servizio sanità sulla base dell'andamento dell'epidemia. Infatti in questi tre comuni persiste un'incidenza superiore a 250 positivi settimanali su 100.000 abitanti. Per questo il presidente Francesco Acquaroli oggi ha firmato un'ordinanza con lo scopo di rallentare il contagio. Da mercoledì 28 aprile a martedì 4 maggio compresi, Monte Labate e Valle Foglia in provincia di Pesero Rubino e Cerretodesi nell'Anconetano saranno nella fascia cosiddetta arancione rafforzato. Dunque verranno tutte le misure previste per le zone arancioni ma all'interno del territorio comunale saranno consentiti gli spostamenti nei suoi casi di salute, studio, lavoro e comprovate necessità come previsto nelle zone rosse. sarà sempre necessario utilizzare l'autocertificazione per giustificare ogni spostamento. Invece per quanto riguarda le scuole e le attività economiche resta in vigore quanto già previsto dalla zona arancione. La regione infine precisa anche che continuerà ad analizzare il tasso di incidenza dei contagi in tutte le marche per valutare la necessità di adottare misure più restrittive. Sono quattro i decessi legati al coronavirus che si sono verificati nelle ultime 24 ore. La nostra regione invece i nuovi positivi sono 123, la maggior parte dei casi 49 sono stati registrati in provincia di Ancona. Negli ospedali della regione c'è un solo ricovero in più rispetto a ieri. Il numero dei pazienti in terapia intensiva rimane invariato a 68, mentre calano leggermente i degenti in semi-intensiva, che ad oggi sono 140, 5 in meno rispetto a ieri. E da oggi gli studenti delle superiori sono tornati in classe, con la presenza dal 50 al 70%, tranne gli alunni delle quinte classi, sempre delle superiori, che invece sono tornati al 100%. Una scelta che però non piace a tutti i ragazzi. Simona Zonghetti. Com'è andato questo rientro? Ed è abbastanza bene. Eravate stanche di fare le lezioni da casa? Preferite ritornare sui banchi di scuola? Un po' sì, un po' sì. È tutto diverso. Si ritrovano i compagni, si chiacchierano un po'? Anche se sono la mia età, sì. Sì, ma che se no sempre a casa, un po' stufa. Avevate voglia di rincontrarvi? Sì, dai, diciamo di sì. Le norme comunque si rispettano, il gel all'ingresso, distante? Sì, sì, sempre. Zaino in spalla e mascherina sul volto. Oggi gli alunni delle superiori sono tornati a scuola con la presenza al 70%, ma non in tutte le classi, a renderlo possibile il nuovo decreto legge riaperture, approvato dal governo, che introduce misure urgenti per la graduale ripartenza nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dei contagi. Un super lavoro anche per il personale e i dirigenti scolastici che hanno dovuto organizzare, da capo e ancora una volta, ingressi e attività. Beh, sì, ormai è da qualche tempo che stiamo vedendo, rivedendo, adeguando di volta in volta. Ma in ogni caso, la nostra regione, il nostro ufficio scolastico regionale, ha previsto, tenendo conto dei limiti, ahimè, del trasporto pubblico locale scolastico, ha previsto una misura di rientro compresa fra il 60 e il 70 massimo di percentuale degli studenti. Quindi abbiamo deciso di incrementare la quota che avevamo al 50% fino a sabato di norma, consentendo l'ingresso a tutti gli studenti al 100% delle classi quinte. Questo, ha proseguito il preside Samuele Giombici, ha consentito di raggiungere un livello di presenza complessivo degli studenti dei nostri istituti di oltre il 60%. Abbiamo verificato che non tutti gli studenti di quinta, come era prevedibile, usano i mezzi pubblici, molti sono anche maggiorenni, eccetera. Quindi questo ha, come dire, ha consentito di essere anche più tranquilli nel permettere a tutti loro il rientro. Fino a quando dovranno rimanere aperti gli istituti? La fine delle elezioni è prevista ed è il 6 giugno, sabato. Poi il governo sta immaginando un decreto che dovremmo vedere, che consentirebbe di mantenere attività nelle scuole per il periodo successivo, non è ben chiaro, fino a quando? Per giugno, forse anche parte di luglio, eccetera. Per noi, le scuole superiori, nulla di nuovo, perché noi già da sempre, dopo la fine delle elezioni, mettiamo in atto attività di recupero, i cosiddetti sportelli, i corsi di recupero per i ragazzi che hanno avuto insufficienze, e quindi che si prolungano giugno, parte di luglio, quindi per noi nulla cambia da questo punto di vista, l'abbiamo sempre fatto da anni. Ma se da una parte c'è chi preferisce le lezioni in presenza, dall'altra c'è chi non condivide le nuove modalità della didattica. Personalmente io preferivo la modalità al 50%, per il semplice motivo che dimezzavo i miei contatti, e quindi con i contagi che non accennano a cadere, in questo momento secondo me bisogna tutelare più la salute, piuttosto che un mese in presenza al 100%, che diciamocelo non cambierebbe nulla a livello didattico, anzi, secondo me, soprattutto per noi quinte, che a metà maggio chiudiamo i programmi, quindi poi verremo sempre e solo interrogati, quindi è una cosa che si può fare anche da casa, lo abbiamo fatto per un anno e mezzo, non vedo tutta questa fretta e necessità di tornare al 100% a scuola, onestamente. Bene, brava. Allora, adesso invece parliamo, restiamo sempre in ambito scolastico, e parliamo dei tamponi, tamponi nelle scuole, perché oggi il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che sarà tra poco qui in studio, insieme a noi in diretta, ha lanciato un appello al Presidente del Consiglio Mario Draghi. Da questa mattina, infatti, in Francia, sono partiti test salivari e tappeto per tutti gli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado. In tutta Italia la scuola è ripartita in presenza almeno 60-70%, ha commentato Ricci, ma il virus continua a girare e la variante indiana è molto preoccupante. Caro Premier Draghi, apprezziamo la sua volontà di aprire le scuole in presenza, ma allo stesso tempo ci chiediamo perché non sia possibile mettere in moto il meccanismo del controllo con tamponi veloci o tramite test salivari, proprio come accade in Francia. E questa mattina l'azienda Adria Bus, poco fa avete sentito il dirigente Giombi parlare di trasporti pubblici dedicati agli studenti, ebbene l'azienda Adria Bus ha fatto un monitoraggio per verificare l'impatto sui trasporti aumentati per la sicurezza dei ragazzi. Il direttore Benedetti ha assicurato e ha detto non c'è stata alcuna criticità. È andata bene, ma siamo rimasti al 50% e sono ritornate solo le quinte in presenza. Preferivate ritornare ad un 100% o vi sentite più sicuri appunto così a metà? No, sì, così è meglio, ci sentiamo più sicuri perché non ci sono i trasporti, quindi è meglio così. E con cosa è arrivato lei a scuola? Io in macchina, io non vengo con l'autobus, però ho molti compagni che vengono in autobus. Dopo decine di incontri e di riunioni è stato sciolto anche il nodo dei trasporti scolastici. Finite le consultazioni con le parti interessate, l'Aggiunta a Quaroli ha stabilito che i concessionari devono adottare ogni utile provvedimento organizzativo, anche ricorrendo agli operatori esterni per garantire un incremento dei servizi di almeno il 60% dell'utenza scolastica a partire da oggi. E anche Adribus ha predisposto l'aumento dei mezzi pubblici per garantire la massima sicurezza. A fare il punto è il direttore generale Massimo Benedetti che ha assicurato monitoriamo ogni giorno l'utilizzo delle corse. Così come è stato stabilito nei tavoli perfettizi, noi abbiamo dato disponibilità sin da oggi, quindi da stamattina, a poter incrementare l'offerta di servizio al pubblico di quel 10% necessario per far viaggiare in tutta tranquillità i nostri clienti. In questo caso sono gli studenti che sono quelli a cui teniamo di più. E la Regione Marche, in una nota inviata ai gestori del trasporto scolastico, ha precisato che si farà carico del costo dei bus aggiuntivi. Abbiamo aggiunto circa 10 mezzi, quindi 7 più altri 3 di scorta nel caso in cui fossero stati necessari. Tutti i servizi aggiuntivi sono regolarmente coperti dagli organi competenti, così come stamattina riteniamo che non ci siano particolari criticità. Siamo fiduciosi che se il sistema, tutto il sistema, il sistema della programmazione scolastica e la nostra, reggiamo con queste modalità, arriveremo tranquillamente alla fine dell'anno in totale sicurezza. Mi sentirei di fare una raccomandazione a tutti coloro che utilizzano l'autobus di utilizzare in maniera corretta la mascherina, posizionandola sul naso e la bocca e di salire con le mani igienizzate o igienizzarli al momento dell'ingresso a bordo. Con queste semplici raccomandazioni penso che potremo arrivare alla fine della scuola senza alcun problema. Per salvare il mio locale vendo un rene. Assicura che non si tratta di una provocazione. Massimo Sturani, barista di Ancona, che già nel mese scorso si era incatenato per protestare contro le istituzioni. Ora lancia anche un appello per continuare la battaglia di fronte al Palazzo della Regione. Ha espresso tutta la sua rabbia durante una diretta Facebook Massimo Sturani, barista di Ancona, che nel mese di marzo si era legato le catene ai polsi ed era salito sul tettuccio dell'auto per far sentire a tutti il proprio grido di dolore. Questa volta però Sturani ha fatto di più. Ha preso un cartone e un pennarello per scrivere una frase shock. Pur di salvare il mio bar e aiutare i colleghi in difficoltà «Vendo un miorene». E così, come ha precisato nel cartello inserendo il suo numero di telefono, oggi pomeriggio ci ha assicurato «Non sto scherzando, sto facendo sul serio». Inoltre, durante la diretta condivisa sui social, si è rivolto agli anconetani per invitarli ad andare a protestare domani di fronte al Palazzo della Regione. Prendete i vostri figli in braccio, guardate negli occhi e ditegli «Io vado, un giorno vi ringrazieranno perché state combattendo anche per la loro libertà, per avere un futuro migliore, non si può più vedere i bambini a casa, davanti al computer, non si può più vedere i bambini. Devono andare a scuola, devono giocare insieme agli altri, devono sbucciare i ginocchi, devono imparare a vivere sulla strada, non dentro casa. Sennò ci diventano tutti dei c***o. «Siamo tutti sulla stessa barca», ha proseguito l'imprenditore, anche quelli che oggi pensano di star tranquilli perché sono in pensione o perché alla fine del mese prendono lo stipendio. «Oggi sta cadendo addosso a noi, ma domani toccherà a voi e quindi siamo uniti. Quindi se oggi voi ci aiutate a fare questa protesta, noi aiuteremo voi quando ci sarà bisogno. Portatevi dei vessilli, siamo in Ancona, portatevi dei vessilli, delle bandiere sciarpe, bianco-rosse, portatele, siamo in Ancona. È come fossimo tutti tifosi per vincere questa partita, anzi questa battaglia». Il barista che oggi è riaperto e battenti con le tante difficoltà e i limiti imposti, tra cui il coprifuoco e l'obbligo di servire all'aperto, non si dà pace e continua a criticare le scelte del governo. «Due erano le cose che potevano fare, o farci lavorare in sicurezza e lo potevamo fare già da un anno, ok? Oppure fateci chiudere, stiamo tutti a casa ma teneteci in piedi le nostre attività pagandoci luce, acqua, gas, affitto e dipendenti. Non si può andare avanti così. Io vi faccio l'appello pure agli Ultras dell'Ancona. Ragazzi, venite anche voi, voi avete, voi sapete fare i cori. Ci servono persone che sappiano urlare, urlare, ci devono sentire fin da Roma, tutti insieme a gridare «Vogliamo lavorare, vogliamo vivere!» Basta, ragazzi, basta con questa situazione di PCM qua, di PCM di là, i colori, basta! Loro lassù e ne può frega di meno, loro i soldi a fine mese ce l'hanno, molti di noi già hanno chiuso, molti stanno chiudendo e molti chiuderanno. Questa è un'ultima partita da giocare, ragazzi. Tutta Ancona, martedì mattina e non solo Ancona, martedì mattina alle ore 8 davanti alla Regione Marche per urlare, urlare la nostra libertà. Il maltempo, il maltempo non ha rovinato la ripartenza di baristi e ristoratori, i clienti sono tornati a mangiare e bere caffè seduti al tavolo, ma rigorosamente all'aperto. Angelica Panzieri. Le Marche tornano oggi in zona gialla. Questa mattina anche noi giornalisti siamo venuti al bar qui nei tavoli all'aperto a scoprire come i cittadini stanno riassaporando questo ritorno in zona gialla. Ore 10.30, Pesaro, primo giorno in zona gialla, i tavolini sui marciapiedi e la tanto desiderata colazione al bar per molti che non hanno esitato a godersi dopo mesi. Cappuccino e brioche all'aperto. Dopo tanto tempo chiusi a casa un po' di relax a gustarsi il caffè ci sta. Per me è una cosa fondamentale. Proprio mi piace bere il caffè al bar quindi se posso a casa lo evito. Lo aspettavamo dalla zona precedente gialla ed è meraviglioso e speriamo che continui con comportamenti irresponsabili però da parte di TAN e speriamo che tutto persista. Noi venivamo sempre tutte le mattine anche se fuori però il fatto di sedersi e stare qui in tranquillità è meglio. La gioia dentro di riavere le persone sedute ai tavoli questo ci dà nel cuore una grande gioia. L'unico problema per i bar è il fatto che il caffè non può essere servito al bancone. Questo lo dobbiamo? dobbiamo sedere a tavola tranquillamente insomma è un momento difficile del mondo del paese quindi cerchiamo tutti insieme di avere fiducia in quello che succede domani anche se le parere sono molto contrastanti tra tutti c'è stata grande confusione anche in questo momento quindi ripartiamo in silenzio umiltà buon lavoro cortesia questo è il messaggio Il meteo non è dei migliori alle 12 inizia a scendere qualche goccia di pioggia ma fino a quell'ora i bar del centro storico lavorano così anche i ristoranti seppur la ripartenza sia coincisa per alcuni con il giorno di chiusura ma la voglia di ripartire c'è e chi può farlo all'aperto si sta già attrezzando Aspettiamo questo momento da un sacco di tempo tanto che non ci ricordiamo neanche quando è stata l'ultima volta che abbiamo aperto non siamo contenti ovviamente col discorso del solo aperto perché abbiamo davanti una settimana di pioggia freddo e vento e quindi ci faremo quattro risate quando se inizia a piovere mentre la gente è seduta nei tavoli magari qualcuno ci dirà cosa si può fare o se invece verranno subito a controllare se li abbiamo messi dentro o se sono tutti con l'ombrello sotto l'acqua e quindi ecco l'ennesima cosa che non ci convince però noi comunque ci siamo ma domani mattina finiamo tutto e abbiamo la piazzetta esterna per iniziare a lavorare fuori rimangono le regole di sempre distanza di un metro tra i tavoli e uso obbligatorio della mascherina nei bar niente caffè servito al banco e al ristorante ci si sieda tavola in sei solo se si appartiene allo stesso nucleo familiare altrimenti resta la norma di far sedere solo quattro persone per tavolo se si tratta appunto di amici o non convidenti e adesso invece parliamo del piano casa perché la regione ha approvato una delibera con la quale si permette di far rientrare nel bonus 100% che riguarda l'efficientamento energetico anche l'abbattimento e la costruzione di un immobile sentiamo l'assessore regionale Stefano Guzzi è stata approvata oggi in giunta regionale una delibera particolarmente importante che poi andrà in consiglio regionale nelle prossimissime settimane che prevede una serie di norme che agevolano e snellescono delle procedure per le ristrutturazioni edilizie e quindi per riportare il lavoro all'impresa dell'edilizia e riportare efficientamento energetico nelle case della nostra regione cosa intendiamo con questa norma finora le agevolazioni del super bonus 110% valevano e valgono per le ristrutturazioni edilizie non erano considerate ristrutturazioni edilizie gli abbattimenti e la completa ricostruzione degli immobili in poche parole il piano casa non era applicabile non era così chiaramente applicato noi oggi prevediamo invece che anche quando si prosegue con un piano casa cioè l'abbattimento di un immobile e il suo completo rifacimento financa all'ampliamento del 20% possa essere ricondotto alla rigenerazione urbana all'efficientamento energetico e quindi lo consideriamo al pari di una ristrutturazione questo vuol dire poter usufruire del bonus 110% vuol dire avere anche delle agevolazioni per quel che riguarda gli oneri d'urbanizzazione oltre a uno snellimento burocratico che consente di accedere meglio e più rapidamente alla possibilità di portare avanti questi tipi di intervento quindi una delivere importante che ridarà lavoro che consentirà la ripresa del settore dell'edilizia e consentirà anche di avere un ammodernamento complessivo degli immobili nella nostra regione e in tutti quanti i nostri comuni partiranno questa settimana a Fano i lavori di riqualificazione dei parcheggi in Viale Dante Alighieri siamo nel lungomare di Sassonia l'assessore Tonelli dice resteranno gratuiti Filippo Pucci i cartelli installati sabato scorso indicano l'avvio dei lavori lungo Viale Dante Alighieri verrà installato questa settimana il cantiere per la riqualificazione dei parcheggi lungo tutto il tratto stradale addio dunque la disposizione a spina di pesce dopo le richieste dei residenti l'amministrazione ha progettato un nuovo ordine delle soste auto che resteranno gratuite partiranno da lato sud e mano a mano andranno verso nord quindi ci potrebbero essere dei disagi sulla viabilità però diciamo questo cantiere durerà circa 3-4 settimane in cui si riorganizzerà come dicevo la sosta lateralmente in linea con il senso di marcia sia a destra che a sinistra e si rigenererà un pochino il marciapiede i percorsi piedonali laterali con dello stabilizzato in modo che comunque sia più fruibile per tutti anche per i meno abili infatti con questo nuovo intervento per un importo di circa 100.000 euro si migliorerà la sicurezza del viale con un occhio di riguardo per ciclisti e pedoni costretti ad occupare la carreggiata per colpa delle auto parcheggiate selvaggiamente per chi usa la bici sarà consigliato il passaggio verso nord dalla pista ciclabile di viale adriatico mentre per il ritorno quindi verso sud si potrà passare per quella di viale alighieri termine dei lavori entro la stagione estiva in questo momento quella zona diciamo è organizzata in una maniera un po' anarchica quindi c'è un parcheggio selvaggio dove spesso capita abbiamo la mentele anche dei residenti che le macchine parcheggiano davanti agli accessi pedonali o davanti agli accessi carrabili quindi in questo modo vogliamo dare un senso alla viabilità i parcheggi non diminuiranno di tanto appunto abbiamo fatto questa scelta di lasciare sia a destra che a sinistra la sosta e la velocità sarà una zona 30 quindi le macchine comunque saranno incentivate ad andare più piano e in questo modo speriamo di dare un più decoro a tutta quella zona mare c'è stato un incidente un grave incidente nel pomeriggio intorno alle 13 a Pesaro in via Fratti all'intersezione con via Madonna di Loreto si è trattato di uno scontro frontale tra due veicoli che ha visto coinvolte due ragazze conducente passeggera di uno scooter scarabeo entrambe di 16 anni residenti a Pesaro ed un 32enne di Fano alla guida di una Golf le due ragazze a bordo del ciclomotore sono rimaste ferite nell'impatto e sono state trasportate dal 118 al pronto soccorso di Pesaro le loro condizioni non sarebbero gravi la dinamica dell'incidente al vaglio della polizia locale Fano città delle bambine e dei bambini oggi spegne 30 candeline per l'occasione il comune ha deciso di programmare non una semplice festa ma un anno di eventi una città a misura di bambino e una città a misura di tutti lo ha ricordato il sindaco Massimo Seri in occasione del trentennale della Fano città delle bambine e dei bambini un traguardo importante per un progetto portato avanti dal primo cittadino sin dal suo insediamento nel 2014 tra i risultati raggiunti la riqualificazione degli spazi pubblici il consiglio dei bambini la città da giocare il carnevale dei bambini oltre alle attività culturali e alle iniziative nei vari quartieri quello di oggi ha detto il primo cittadino che ha lasciato per sé la delega in materia non vuole essere un momento esclusivamente commemorativo ma di rilancio infatti il comune ha organizzato un anno di eventi anche di alto profilo come testimonia il coinvolgimento di UNICEF e del CNR il consiglio nazionale delle ricerche sono trent'anni e trent'anni significa che questa esperienza è un'esperienza importante per la città ma soprattutto per quello che ha prodotto è stata una felice intuizione quando nacque nel 1991 in questi anni tante le attività ma soprattutto tanti progetti che hanno pensato ad una città sempre dove si puntava alla qualità della vita perché Fanno Città dei Bambini è proprio un'esperienza di organizzazione di città che è accogliente per tutti si parte dal punto di vista dei bambini per arrivare a tutta la città e abbiamo deciso di celebrare questo anno partendo da questo maggio fino al maggio dell'anno prossimo organizzando tanti eventi dai massimi livelli a livelli rivolti ai ragazzi alla città insomma tanti momenti nazionali e internazionali questa ha poi commentato l'assessore Mascarin l'occasione giusta per ripensare a come Sarafano fra trent'anni deve esserci una visione che rende la nostra città più inclusiva ad illustrare il programma è stata invece Paola Stolfa se pensiamo che i primi partecipanti oggi hanno superato i quarant'anni ha detto la coordinatrice ci rendiamo conto di come questo progetto abbia contribuito a creare una consapevolezza e un senso civico nei nostri giovani cominciamo giovedì giovedì prossimo il 29 con la presenza di Francesco Tonucci che è il fondatore l'ideatore di questo progetto che ancora ci accompagna e ci sarà un evento online quindi alcuni di questi eventi per forza di cose saranno online per poi arrivare il 27 maggio a fare sempre online un collegamento con la rete internazionale delle città di tutto il mondo d'Europa e del mondo per confrontarsi sulle varie esperienze poi arriva l'estate e speriamo di poter tornare all'aperto e in questo momento riusciremo a coinvolgere di più i bambini nella città sia in centro storico grazie alla collaborazione anche con le con le organizzazioni che già fanno attività su questo ma anche della città dei bambini come per esempio la miemoteca piuttosto che passaggi piuttosto che il consiglio dei bambini e via dicendo quindi giovedì sotto le stelle eccetera a settembre ci sarà l'evento istituzionale quello di cerimonia più eclatante con dei rappresentanti molto importanti per chiudere a maggio dell'anno prossimo speriamo davvero con la città a giocare quindi invaderemo la città di bambini che giocano sperando di poter stare all'aperto in tutta sicurezza un giro tanto allora adesso apriamo l'album ma facciamo partire anche la marcia annunziale perché abbiamo sei coppie marito e moglie da festeggiare questa sera partiamo da Caterbo Giangolini e Giancarla Di Ottallevi di Monbaroccio che sabato scorso hanno festeggiato 50 anni di matrimonio nozze d'oro invece per una coppia di Cucurano di Fano che ha festeggiato ieri l'anniversario si tratta di Anna Carla Cinotti e Roberto Maggioli auguri anche a Giannino Bucchi ed Elisabetta Sabatini di Rosciano di Fano anche per questa coppia che ha festeggiato ieri 50 anni di matrimonio da Fano ci spostiamo a Lucrezia di Cartoceto per fare gli auguri a Bruno Pierini e Maria Novella Fascinetti anche qui nozze d'oro altra coppia di Monbaroccio Giusto Ciacci e Maria Roscetti di Villa Grande 50 anni di matrimonio anche per loro chiudiamo con le foto di Sauro Montanari e Pia Petretti del vallato di Fano che oggi festeggiano 63 anni di matrimonio Auguri Allora tra poco meteo poi la pubblicità e qui su questa scrivania sederà Simona Zonghetti con il nostro ospite a Primo Cittadino c'è questa sera Matteo Ricci il sindaco di Pesaro questi intanto i numeri per poter chiamare scrivere inviare domande al Primo Cittadino grazie per essere stati con noi ci vediamo domani mattina alle 7 per la lettura dei giornali il commento alla stampa con appunto Occhio giornale arrivederci a Grazie.